Non poteva partire meglio la stagione estiva per Castel San Vincenzo. L'afflusso di turisti provenienti sia da fuori regione che dall'estero è in costante crescita e tutto promette un agosto sold out e che potesse essere un'estate piena per il piccolo comune alle pendici delle Mainarde si era già intuito durante le festività pasquali, quando la località era stata letteralmente presa d'assalto da migliaia di vacanzieri. Ci stiamo abituando ad un'affluenza turistica sempre più consistente, commenta la sindaca Marisa Margiotta e stiamo rispondendo nella maniera migliore alle richieste dei turisti. Un traguardo reso possibile soprattutto grazie ai concittadini che hanno capito quanto sia importante adeguarsi alle richieste rendendo disponibile anche il patrimonio immobiliare. Grazie all'impegno di tutti siamo diventati sempre più competitivi e attrattivi. Il lockdown, dice ancora la sindaca, ha fatto emergere nuovi bisogni ed è cresciuta la voglia di vacanze in piena tranquillità assaporando i piatti della cucina locale ma anche cibo di veloce consumo. Così i fast food si sono moltiplicati e oggi abbiamo un'offerta significativa. Abbiamo recuperato terreno e guardiamo al futuro con maggiore fiducia.